Tutti, anche quelli che sono capitati per caso, anche quelli che curano Gigi D'Alessio Sì sì dai, anche quelli del fondo, per favore, invece di tenere le braccia con sette, il segno di sfida Lei? Ok, dovete fare le spighe di grano con il suo sistema che vado da destra a sinistra e fare il gallo che fa Diego, faivi sentire Lo sapete fare il gallo? Come fa il gallo? E la mucca? E il cane? E una donna che ha un orgasmo? Ok, no, no, non ha passato le mani, su, 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 dai Dai, se non la gente non ci crede che noi possiamo essere Uno, due, tre Grazie